Amici di YouTube, buona giornata a tutti voi e buon sabato e buon fine settimana. Speriamo che andiamo in cassa in questi giorni, vi faccio vedere un po' le schierine calcio, un attimino, giusto fra un po' di secondi, le vedete e buona fortuna. Amici, ecco a voi, questa è quota 62, vedete? Ok, questa è un'altra, amici, un bel consiglietto a tutti voi. Quindi, parziale e finale questo, amici, poi, vedete, 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 vedete bene, io metto bene vicino così si vede, non potete dire che non si vede, è giocata là. Ok, e questo è un altro, ah, che belli vincite se escono, amici, ok, ve le faccio rivedere, ve le faccio rivedere, e questa è la prima, quota 62, e questa è un'altra, questa è un'altra, e questa è un'altra, ok? Ok, amici, eh, come avete visto, che bollettone, quota 62, può passare fino a... Amici, sono andato un po' sulle quote alte, sperando almeno una di queste esce, amici. Non voglio dare più i 5, le quota 2, quota 3, quota 1 e 5, andiamo un po', diciamo, diversi, vediamo un po' se la fortuna ci accompagna, è pure questione fortuna, eh, no, questione bravura, ok? Speriamo bene, bacioni e buona fortuna, ricordatevi, il 5 e il 90, a 10 all'8 serale, e all'8, su ruota e su tutte, che l'amico Dario l'ha dettate, e il 5 e 18, a 10 all'8 serale, amici. Buona giornata e buona fortuna a tutti voi, ciao, a presto.